Ciao a tutti, bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovissimo video. Finalmente oggi andiamo a spacchettare questi due pacchetti di Amazon. Se non avete visto gli ultimi video del lunedì, ma sono andata nel primo a sistemare un po' la mia wishlist librosa su Amazon. Nel secondo ho fatto acquisti pazzi e oggi finalmente andiamo a spacchettare tutto. Iniziamo! Prima di tutto però partiamo con i libri che ho acquistato in ebook. Perché, come vi dicevo l'altra volta, non di tutti i libri ho voglia di acquistare il cartaceo, non ho intenzione di acquistarlo. E mi basta anche leggere soltanto la versione in ebook. Come per esempio un romanzo che ho anche già iniziato, ovvero Legati dall'Onore, il primo volume della Mafia Chronicles di Cora Drearly. Questo è un mafia romance. Ultimamente, voi lo sapete, mi sono appassionata alla serie Mare Fuori. E quindi volevo iniziare a leggere qualcosina che fosse, non dico uguale o simile, ma che centrasse un po'. In questo romanzo abbiamo due clan mafiosi, due famiglie che vogliono unirsi per affari, per poi andare contro altri clan mafiosi, diciamo. E l'unico modo è quello di far sposare i rispettivi figli, ovvero Aria e Luca. Aria e Luca, appunto, devono contrarre questo matrimonio di convenienza, praticamente, per far sì che le due famiglie si uniscano e diventino ancora più potenti. Aria va incontro a questo destino a testa alta, perché lei lo sa che il suo destino era predestinata comunque a diventare la moglie di un nuovo boss mafioso. Luca è un ragazzo che ha intenzione di diventare lui, di succedere lui al padre, quindi molto freddo, molto calcolato, molto rigido. Aria proverà a insinuarsi nel suo cuore, ovviamente non sarà facile, però inizieranno a conoscersi, a confrontarsi, a capirsi, però ovviamente non sarà facile. Ho iniziato a leggerlo, quindi non ho ancora una idea ben precisa, è un mafia romance, quindi sicuramente dei toni molto forti, però a me piacciono sempre e mi sta coinvolgendo, quindi sono contenta. Non l'ho acquistato cartaccio perché sono tantissimi volumi e quindi so già che se acquisto il primo, poi in automatico voglio acquistarli tutti, però se non mi dovesse piacere, poi cosa me ne faccio di tutti i libri? Quindi meglio l'ebook, si risparmia. Il secondo libro che ho acquistato è Fake Aid di Emanuela Ricci ed è praticamente un sportful romance. Siccome nella mia challenge di lettura ne devo leggere uno, ho deciso che questo poteva fare al caso mio. È un bully soft, high school, slow burn, mi piacciono molto ultimamente un po' questo genere e quindi potrebbe piacermi. Io non amo leggere i sportful romance, non mi attirano e non mi coinvolgono mai. In questo caso abbiamo un giocatore di hockey che diciamo si scontra incontra con una ragazza e tra loro è odio alla prima vista, ma finiranno subito dopo a letto insieme. Non si potranno innamorare in modo particolare perché il fratello del nostro protagonista è già segretamente innamorato di lei e quindi il nostro capitano della squadra di hockey, per non ferire il fratello, deciderà appunto che la cosa migliore è odiare questa ragazza. Sarà secondo me una storia molto molto avvincente e coinvolgente se scritta appunto bene. Il terzo libro che ho acquistato è Stuck with you, un ascensore per due di Ellie Edelwood. Ultimamente sto amando tantissimo questa scrittrice, ho letto i suoi libri precedenti e li trovo super divertenti, frizzanti, allegri. I personaggi mi fanno sempre sorridere, li trovo sempre costruiti bene, hanno sempre qualcosa da dire e lo fanno anche sempre in modo divertente. Quindi non vi do l'ora di leggere anche questa piccola novella. Abbiamo i nostri protagonisti che sono due colleghi di studi opposti e lui ha appena rubato un cliente molto importante a lei e si troveranno a condividere questo minuscolo ascensore bloccato e secondo me sarà super super esilarante. Partiamo subito con l'unboxing, la parte un po' più succulente e divertente del video. Gli ho già aperti perché io sono sempre una frana con le aperture facilitate, faccio sempre danni, quindi prendiamo il primo pacchettino. Ci sono due libri, andiamo subito ad estrarre. E voilà! Ok, primissimo libro, questo libricino, una novella 0.5, dolce come il miele di Jennifer Armantrout. Questa è la novella che viene prima della serie The Dark Elements che è composta da caldo come il fuoco, freddo come la pietra e lieve come un respiro. Qui hanno fatto il restyling delle copertine, come potete vedere. Io ho l'edizione vecchia e diciamo che questa si vede che è nuova e non c'entra niente con l'edizione vecchia. Però esisteva solo e soltanto in ebook questa novella. Quando hanno poi deciso di rifare il restyling di tutta la serie, hanno deciso di pubblicarla anche lei. Io non l'avevo ancora letta, mi mancava. È una trilogia che ho amato moltissimo, parliamo di Gargoyle, di Guardiani, l'ho trovata sempre molto molto bella. E in questa avventura all'inizio abbiamo Jasmine e Dez e la loro storia, diciamo. Non credo che, anzi no, assolutamente no, non ricomprerò tutta di nuovo la serie perché mi piacciono moltissimo le copertine che ho. Questo lo so che non c'entra molto, ma lo metterò là insieme, però lo volevo a tutti i costi, anche per collezione, diciamo. Perché io e l'Armentrout appunto la amo e voglio tutto quello che ha scritto e quindi ci tenevo. Secondo libro che meraviglia! Never Never di Colin Hoover e Taryn Fisher. È il nuovo libro che è uscito veramente da pochissimo. Non dimenticare mai di ricordarti di me. Spero veramente che questo bollino venga via facilmente perché odio quando li attaccano. Questa è la copia firmata dalle autrici. Sì, ecco qua. Ecco qua gli autografi, però credo fortemente che sia una stampa. Sì, è sicuramente una stampa. Questo non vedo l'ora di leggerlo. Ultimamente so di non aver letto nulla della Hoover, però devo trovare il mood giusto perché mi fanno sempre molto piangere, molto sospirare e quindi devo essere concentrata e pronta. E questa è una storia che secondo me sarà molto forte. Abbiamo i nostri due protagonisti che sono Charlie e Silas. Sono amici da sempre e si innamorano. Però un giorno all'improvviso si svegliano e hanno completamente perso la memoria. non si ricordano più niente e anche i ricordi non ne hanno neanche più uno. E quindi dovranno ricominciare fianco a fianco, a ricostruire, a indagare, a riscoprirsi e a capire perché erano innamorati, perché erano amici. E il punto di domanda un po' che si fanno è dimenticare è terribile, ma se ricordare lo fosse ancora di più, se ricordare facesse ancora più male e quindi secondo me sarà sicuramente una storia molto forte. Se lo avete già letto fatemi sapere, però questo credo che lo vorrò leggere ben presto. Anche della Uber sto collezionando tutti i libri perché io amo la Uber e prima o poi li leggerò tutti. Passiamo al pacco, quello un po' più cicciottello, un po' più grosso. Qui ci sono tre libri, andiamo subito ad estrarli. Et voilà! Allora, se avete già visto il video precedente sapete già che cosa ho acquistato, ma siccome io adoro fare i unboxing e i book haul e quindi eccoci qui. Allora, ho visto questi due libri qui dalla pagina Instagram di Tania, Tania Paxia. La seguo, mi piace, ho già letto alcune cose sue, le ho trovate molto interessanti. Mi hanno incuriosito un sacco le copertine. Mi hanno subito tentata e quindi li ho voluti acquistare. La serie si chiama Copy Series. Il primo volume è I bravi ragazzi non mentono. Le copertine molto carine. Le cattive ragazze non restano a colazione, è il numero due. Io in realtà non so molto, adesso andiamo insieme a leggere un po' la trama del primo, però mi ha accattivato. Sono belli cicciottini, sono scritti larghi, come piace a me. Azaria Cohen ha 25 anni e un master in copywriting. È nata da madre cristiana e padre ebreo, ma lei si professa Atia. Una miscredente come la chiama nonna Camellia, che la vorrebbe realizzata sul piano lavorativo e soprattutto su quello personale. E invece da mesi combatte contro il precariato e ha un fidanzato per finta. Poi dice di non credere alla sfortuna, perché con un curriculum come il suo è impossibile che sia disoccupata. Ma tant'è, la sua ansia da colloquio è una condanna e la sale ogni volta che sa pervercare la soglia dell'agenzia che intende assaltare, come la Finardi Media, per esempio. Niente può salvarla dal temibile reclutatore Mister Simpatia. Tutto cambio dopo essere diventata prendista, bar lady e aver rimediato un alloggio condiviso con tre coinquilini della faccia da bravi ragazzi e l'atteggiamento da ragazzi pentiti. Secondo me sarà molto, molto, molto divertente. Il secondo libro comunque continua le vicende di questa ragazza, quindi probabilmente ne succederanno di ogni. 9,90 e 11 euro, mentre quello di prima, quello di Colin Hoover, l'ho pagato 18,90 e 9,90 quello dell'Armentraut. Hanno i loro prezzettini. Però sono molto, molto curiosa. L'ultimo libro è Aries della Black Dynasty di Marina Barbagallo. Io ho letto i primi due, Taurus e Venus, l'ho follemente amato, l'ho adorato e ora vorrei iniziare a collezionarli tutti prima che non succeda che vadano in ristampa o che non siano più disponibili perché qui non si sa mai cosa succede. Sono anche qui dei romanzi molto forti, molto sensuali, molto sexy. Hanno all'interno delle immagini bellissime, a mio avviso. Mi piace sempre un sacco quando ci sono delle art all'interno. È una storia, secondo me, molto coinvolgente e appassionante. I primi due io li ho divorati letteralmente e amati fortemente. Quindi credo che sicuramente saranno anche tutti gli altri. Io sono troppo, troppo felice perché era da un sacco di tempo che non facevo acquisti librosi su Amazon, che non facevo un unboxing e quindi non vedevo letteralmente l'ora. Fatemi sapere che cosa ve ne sembra dei miei acquisti, che cosa avete acquistato voi di recente e fatemelo sapere qua sotto con un commentino. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, un po' lì in su, iscrivetevi al canale, attivate il campanellino così non vi perdete nessun prossimo video e noi ci vediamo qua con altri video. Ciao!